Khaire, ti serve qualcosa? Oh, il grande eroe della Megaride è qui per salvarci tutti! Hai perso Drachme scommettendo su Atene? No, Megara era stabile da tempo. Rifornivo gli Ateniesi per le battaglie finché tu non li hai fatti fuori tutti. Ora non c'è più nessuno a pagarmi. Gli Ateniesi hanno avuto quello che meritavano. E anche tu, se non sei stato abbastanza furbo da farti pagare in anticipo. Ah, tienti i tuoi consigli. Se volessi davvero farti perdonare, mi aiuteresti a recuperare dagli Ateniesi quello che mi spetta. Vuoi che vada dagli Ateniesi a effettuare il recupero? Sì, affare fatto? D'accordo, ci penso io. Sono in debito con te. Lascia che ci pensi io. Prendi ragazzi alla testa di Quito nuovo. Grazie a tutti.